Grazie, buonasera, ottavi di finale di Champions League, gli ultimi due questa sera con il Real Madrid di Carlo Ancelotti che come sapete cerca la decima Champions League della sua storia, gioca contro lo Schalke 04. C'è un'altra sfida interessante, c'è anche un italiano che vi partecipa, parliamo di Roberto Mancini, si tratta di Galatasaray e Chelsea e la sfida è anche appunto tra Mancini e José Mourinho. C'è l'Europa League invece da domani con ben quattro italiane impegnate e allora partiamo dalla Juventus, Juventus che tra poco partirà verso Trevisonde, forse è proprio questa l'incognita maggiore, cioè la trasferta in Turchia a pesare sulla squadra di Conte, ma c'è anche un infortunio dell'ultima ora. Per tutti gli aggiornamenti e novità andiamo proprio a Vinovo, per noi c'è Paolo Aghemo. Paolo. L'Europa League tra le altre è anche il Napoli di Benitez, un Napoli che però per parola, per bocca del suo stesso allenatore dice sì è vero l'Europa League potrebbe sembrare il nostro unico obiettivo, ma non è così, noi ci consideriamo ancora competitivi in campionato e il secondo posto è ancora un obiettivo. E allora domani affrontano lo suon, sì, noi ascoltiamo proprio Benitez. Alla Roma, una Roma che a questo punto si trova di fronte l'Inter con una situazione ambientale difficile, visto che è stato respinto il ricorso e oltre alle curve saranno chiusi anche i distinti. Mi fermo qui per quanto riguarda lo sport, a te.